Buone notizie sul fronte scuola, è stata firmata una convenzione con il distretto sanitario di Atri quindi il comune di Atri avrà a disposizione ulteriori aule per rientro nelle scuole. L'istituto Zoli Illuminati di Atri ha avuto un numero di iscrizioni superiore agli spazi disponibili negli edifici della provincia quindi abbiamo raggiunto questo accordo con l'ASL di Teramo nella persona del direttore Fagnano e del direttore di Giosia che ci hanno concesso due piani del distretto sanitario contiguo di fatto al polo scolastico e quindi li realizzeremo nell'imminente sei aule per poi provvedere per i prossimi mesi anche a realizzare ulteriori spazi per dare un polmone anche di sviluppo ad un istituto che registra un trend positivo di iscrizione ogni anno. Facciamo adesso il punto invece sulla situazione nel capoluogo. Nel capoluogo abbiamo avuto la Giosola dell'Ipsia Marino, istituto per il quale abbiamo subito trovato sistemazioni alternative tra spazi realizzati in sommorgenza riaperti nel Milli e l'Iti Alessandrini, tre istituti, il Marino e il Milli Alessandrini che fanno capo ad un'unica dirigenza scolastica. Quindi su Teramo l'emergenza in termini di spazi disponibili l'abbiamo superata. Ovviamente permangono le varie criticità che abbiamo evidenziato nella presentazione dell'indice di vulnerabilità sulle scuole. Questo sarà un lavoro di programmazione che nei prossimi mesi troverà compimento, troverà avvio la gara per il Comi che sta partendo proprio in questi giorni, i lavori al Delfico. Comunque ci sono situazioni che teniamo monitorate e che troveranno spazio in un ordine di priorità in una scaletta che sarà redatta da qui a qualche settimana.